Welcome to Taboo Thursday! La parola di oggi fa parte del vocabolario per il viaggio, infatti questo è un oggetto che si usa sempre o quasi sempre quando si va in viaggio o da qualche parte. Questo oggetto c'è di tanti tanti colori diversi, blu, rosso, nero, giallo. Questo oggetto può essere grande o piccolo, può essere pesante o leggero. Inoltre questo oggetto di solito ha due o quattro ruote, infatti c'è un lungo manico che serve per tirarla. Hai capito che oggetto è?